Il maestro mazzoccante succede a Ettore Pellegrino che resterà fino al 2026 direttore artistico dell'Orchestra Sinfonica Abruzzese e garantirà la sua avvicinanza al Maruccino. Grande emozione, grande gioia ma più di tutto grande senso di responsabilità perché mi rendo conto che l'incarico che mi è stato dato mi richiede un impegno enorme, richiede altissima qualità e richiede veramente che io faccia tutti gli sforzi possibili per rendere onore a un luogo più prestigioso che noi abbiamo nella regione Abruzzo, questo teatro meraviglioso, il teatro Maruccino e in qualche maniera anche di lavorare per coinvolgere il pubblico, per rendere coinvolgente tutto ciò che verrà proposto, per rientrare in qualche maniera anche nelle case delle persone e riportarle in teatro il più possibile e possibilmente anche riportare i giovani. Nel segno della continuità la scelta di mazzoccante deriva soprattutto dal suo profilo internazionale. Non vedo l'ora di poter in qualche maniera coinvolgere i partner internazionali che già mi accompagnano nelle varie stagioni concertistiche, nei vari eventi che durante l'anno si susseguono, diciamo, nelle varie programmazioni che mi interessano. Ma credo che sarà, spero che sarà abbastanza semplice perché questa bomboniera così bella parla da sé. In qualche maniera riusciremo ad allargare i confini dall'Abruzzo a livello nazionale e ancora di più a livello internazionale. La teatinità ha trionfato, finalmente si è sfatato questo tapu Nemo Profeta in Patria. Giuliano Mazzoccante è un grandissimo artista, un grandissimo musicista, un grandissimo direttore che in questi anni ha dato tanto al teatro, è cresciuto in questo teatro e soprattutto la città di Chiedi e meritava questo coinvolgimento, questo incarico e questa fiducia che gli è stata voluta tributare dal Consiglio di Amministrazione che ha deciso in piena autonomia questa nomina.